Il ruolo al quale i operatori del settore dell'intermediazione immobiliare avevano l'obbligo di essere iscritti fino all'anno scorso è stato abolito, ma non è cambiato di fatto nulla dal punto di vista dei requisiti che una persona deve avere per accedere alla professione, degli obblighi che ha e quindi la polizza assicurativa, garanzia del cliente obbligatoria, il deposito dei formulari e quant'altro e le incompatibilità, quindi di fatto è semplicemente stato abolito un numero, che era il numero di ruolo ed è stato portato in automatico nel registro delle imprese. Chi non ha effettuato entro le scadenze previste dalla legge che erano inizialmente il 12 maggio di quest'anno, poi è stato spostato al 30 di settembre di quest'anno, questo spostamento tra il vecchio ruolo e il registro delle imprese a partire dal 1 di ottobre ha avuto ancora solo un mese di tempo, quindi 1 ottobre, 30 ottobre, per poter fare la registrazione cosiddetta tardiva nel registro delle imprese pagando una multa, ma a decorso il termine del 30 ottobre c'è l'inibizione dell'attività, il che significa che se un'agenzia immobiliare non ha fatto questo passaggio al registro delle imprese, non può operare se non rifacendo un avvio di attività con una scia come se iniziasse la propria attività da quel momento in poi. L'agente immobiliare oggi deve diventare una fonte di servizi a 360 gradi e deve fornire al cliente l'assistenza in tutto, soprattutto per le nuove normative, quindi nel momento in cui ci sono nuove norme sulle registrazioni dei contratti, sull'antiriciclaggio o sulle certificazioni energetiche, l'agente immobiliare deve essere molto preparato su tutti questi argomenti in modo da poter guidare il proprio cliente. L'agenzia immobiliare è il front office dell'immobiliare e quindi è quello che veramente tratta con il cliente e che per ultimo deve fare proprio il passaggio, per cui deve stare molto attento alle esigenze del consumatore che oggi è molto più preparato di prima, è più informato, è più consapevole, è molto più prudente, i tempi di vendita si sono allungati non a caso proprio per questo e soprattutto perché c'è molto prodotto sul mercato, non sempre rispondente alle esigenze della richiesta. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!